Il sistema di telecontrollo che ci permette di capire e sapere esattamente quanta acqua c'è e dove, la distrettualizzazione delle reti che è oramai arrivata a livello capillare in tutti i comuni della Puglia, tutti i 249 comuni della Puglia, ci ha permesso anche di muovere e trasferire le masse d'acqua lì dove serviva nel momento in cui serviva. Non sono acquadotto interconnesso, sono in corso anche importanti investimenti per ulteriori interconnessioni, sono in corso anche importanti investimenti nella ricerca di nuove fonti di approvvigionamento. Un ruolo importante svolge anche, visto che trattiamo il sistema idrico integrato, l'affinamento delle acque raffredde e purate, perché nel momento in cui non siamo in grado di garantire all'agricoltura un'alternativa tramite l'affinamento, quindi dando all'agricoltura una risorsa sostitutiva a quella muta dai pozzi, riducendo il prelievo della falda. Salvaguardiamo la falda, i pozzi li teniamo per le emergenze potabili e ancora una volta siamo in grado di modulare l'offerta rispetto alle richieste dei nostri cittadini.